Siamo tornando, ma riusciremo a prendere il volo Torino-Roma? Siamo tornando, ma riusciremo a prendere il volo Torino-Roma? Sì, dai, facciamo un po' di rally con la 500L. Piotta, piotta, come si dice in Piemonte? Pura Roma, come si dice piotta? No, no, si dice a Roma. Che cosa vogliamo dire di qui? Non voglio dormire. Andate nel letto. E quanti sei svegliato? Alle due e mezza. Cosa vogliamo dire di questa esperienza? Che abbiamo preso quattro aerei in due giorni, guidato sei ore, però guarda quanto siamo freschi. La bellezza. La bellezza. La bellezza. Now,..." Grazie a tutti